Buongiorno ragazzi, oggi voglio farvi vedere un'anteprima assoluta. Mi è arrivata direttamente dalla TESMAN. TESMAN, marchio con cui collaboro già da diversi mesi, mi ha dato grandissime soddisfazioni, mi ha già inviato un multimetro digitale, questo che io utilizzo sempre e ho sempre a portata di mano perché è veramente qualcosa di piccolo e di veloce da utilizzare. TESMAN è un marchio che mi ha veramente sorpreso e mi accompagna del quotidiano, mi piace veramente tanto. Tant'è che mi ha contattato i giorni scorsi e mi ha detto Stefano guarda abbiamo in anteprima assoluta un rilevatore di umidità. Io in un primo momento pensavo fosse la classica pennetta cercafase che già mi aveva mandato la TESMAN, ho detto si sono sbagliati. No, questa è veramente una pennetta che è in grado come la pennetta quella che rileva come si dice l'acqua nell'olio dei freni, questa rileva l'umidità nei materiali, ovvero nel legno e nei muri anche. Ed è un'anteprima assoluta perché TESMAN ancora non l'ha lanciata sul mercato. Di fatti ho provato a cercarla anche su Amazon, ho provato a cercare video su YouTube, non ce ne sono e mi ha confermato. Poi la TESMAN ha detto Stefano guarda tu sei il primo ad averla, provala e dici cosa ne pensi. Ragazzi a me veramente l'ho provata un attimo, in due minuti che l'ho accesa, l'ho fatta funzionare, è qualcosa di incredibile. Non immaginavo la tecnologia sta facendo passi da giganti, adesso ve la faccio vedere. Come fa ad andare a rilevare l'umidità nel legno e nelle pareti? Abbiamo detto tramite questi due puntali che vedete qui. Vedete? Ha un display, adesso ve l'accendo. Una volta accesa, vedete? Questo è il display, compare un display verde, ok? Poi ci sono i vari simboli, il primo simbolo è l'autospegnimento che potete disattivare e poi quell'M1 che vedete è la modalità 1, ha sette tipi di modalità. Cosa vuol dire sette tipi di modalità? Che i primi due tipi tramite il tasto M, vedete M modalità, voi andate e cambiate modalità 2, modalità 3, 4, 5, 6 e 7. Cosa sono queste modalità? Le prime due modalità rilevano il legno, tutti i tipi di legno minimo immaginabili. Stiamo parlando di faggio, abete rosso, larice, betulla, ciliegio, noce, questa è in modalità 1. Se mettiamo in modalità 2 lui andrà a rilevare quercia, pino, acero, frassino, abete e eucalipto. Questi tipi di legno vengono rilevati perché poi in base alla durezza e all'assorbimento di umidità ci sono queste due modalità e vi dà poi la percentuale, qui verrà scritta la percentuale di umidità presente in questi tipi di legno. Tra l'altro vi verrà fuori un semaforo, ovvero adesso è verde, poi man mano che aumenta l'umidità nel legno diventerà arancione fino a diventare rosso, vuol dire che quel materiale, quel tipo di legno è impregnato, è veramente umido e quindi chi vi ha venduto quel tipo di legna, quei quintali di legna potete fare la prova sotto al suo naso e dirgli ciccio guarda che mi hai venduto legna abbastanza umida, più del dovuto, portamene più secca perché sennò io l'inverno come faccio a passarlo? Non solo, dicevo, dalla modalità 3 alla modalità 7 potete invece andare a misurare l'umidità presente nelle pareti, nelle vostre pareti di casa, sia in esterno che in interno, anche sui mattoni, malta cementizza, qualsiasi tipo di muro voi avete a disposizione, se avete, che ne so, delle macchie di umidità, se avete della risalita, se avete del muschio sui mattoni esterni, ovvio, andate a misurare quei due puntali, ora vi faccio vedere una prova col mio dito, ovvio che non è un muro il mio dito, però vedete che in modalità così vi sta sfalsando, diventa arancione e vi va a misurare il tipo di umidità anche nei muri, così potete risanarli, potete capire un attimo se avete una perdita, se c'è... un tipo di risalita, diciamo, nelle pareti di casa vostra, ma adesso venite con me perché ve la voglio far vedere sul campo, ho praticamente diverse cataste di legna, accumulate nel corso degli anni, dalla legna più secca, addirittura un pino che ho abbattuto i giorni scorsi, quindi è veramente legna fresca e vi faccio vedere che le misurazioni che andremo a fare sono proprio veritiere, seguitemi! Ok ragazzi, allora come volete vedere questo è un pino che ho tagliato i giorni scorsi e ancora piantato nella terra, tra l'altro uno dei prossimi video voglio far vedere come si sradica questo tronco, seguitemi così almeno ci faremo quattro risate, lì in fondo vedete ci sono gli altri pezzi di pino che sono andato a tagliare, quindi questo è un tronco fresco, fresco tagliato da 3-4 giorni, andiamo a vedere la rilevazione, vedete modalità 2 perché è la modalità proprio del pino, andiamo a incassonarla qui e come potete vedere il grado di umidità è rosso 22% perché è fresco, è ancora proprio tagliato da poco con ancora le radici all'interno della terra, quindi la pennetta ha rilevato che supera di gran lunga l'umidità presente, non è un legno secco 22% modalità rossa e quindi è bello impregnato, giusto per farvi capire che funziona ed è la rilevazione stata esatta, adesso seguitemi che andiamo a fare altre rilevazioni, verifichiamo anche su questi tronchi che fanno parte sempre dello stesso pino, diamo proprio una mega, vedete qui è verde, diamo proprio una mega innestata e anche qui superiamo addirittura il 28% di l'umidità, proprio perché è legno fresco, legno tagliato da poco tempo, poi ovvio siamo anche in inverno, l'umidità presente nell'aria si ripercuote e viene assorbita anche dal legno. Ok anche questa è sempre la stessa legna di quel pino lì, ovviamente sono i rami che ho tagliato i giorni scorsi e anche qua se andiamo a infilare vedete siamo al 30%, vediamo anche uno di questi, prendiamo ad esempio questo, vediamo cosa ci dice, anche questo vedete arancione perché nel frattempo si è seccato, questa l'ho tagliata un pochino prima, vediamo anche questo, anche lui vedete 24%, andiamo a infilare, questa è tutta legna tra l'altro guardate qua c'è ancora attaccato il cosino del, infatti secondo me se anche qui vado a infilare i puntali e proprio è legna, vedete 44 addirittura perché qui c'è ancora il rametto del del pino, qua siamo al 44, questa è proprio legna che ho tagliato i giorni scorsi, questa l'ho tagliata con la mini motosega della proti tra l'altro, è un mostro quella mini motosega, seguitemi anche questa è legna di un altro pino che ho tagliato qualche mese fa, però anche questa dovrebbe essere ancora abbastanza umida, vediamo un po' meno, vedete questa è arancione il 18% perché questa l'ho tagliata qualche mese fa, è un pino che ho tagliato qualche mese fa, e venite con me, guardate questa è tutta legna invece abbastanza già più stagionata, difatti questa ce l'ho già dall'anno scorso, difatti vediamo ovvio che sta all'aperto, guardiamo un po' che cosa mi dà, infatti vedete che questa è legna già secca, l'umidità è bassa, siamo all'11%, ovvio questo però non è pino mi sa, questo deve essere quercia, proviamo a metterlo in modalità 1, però poco cambia perché so già che questo è legna di pregio, ecco non è il pino, allora vediamo e si infatti anche questo vedete 12% perché questa ce l'ho dall'anno scorso addirittura quella grigia ecco vedete questa grigia ce l'ho da due anni perché non ho fatto in tempo a usarla tutta e quindi andiamo a misurare anche questa vedete 10% aspettate 11% vedete questa è proprio legna questa che vedete grigia si è seccata che ho qua sotto poi man mano è quella dell'anno scorso e questa di sopra comunque come potete vedere questo è un tronco che è rimasto sotto l'acqua però è un tronco vecchio anche questo è probabile che comunque abbia assorbito un po' di vediamo no no anche lui vedete rimane verde rimane verde torniamo di qui prendiamo un po' di legna un pochino più vedete anche questa 11% 12 questa è quella secca quella già stagionata dall'anno scorso questa no qui e dovrei averne ancora comunque come potete vedere funziona benissimo questa 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 invece no mi sa che è il pino e se fa sempre parte del pino è esatto vedete che ho tagliato lì e ne ho messa un po qua tutta quella che vedete qui è tutta del pino che ho tagliato i giorni scorsi e che ancora si deve seccare quella dietro no quella dietro invece dovrebbe essere abbastanza secca perché è quella del che mi ha portato il il taglia legna e difatti vedete questa 11 per cento difatti questa l'ho messa che la utilizzo prima di quella del del pino che è ancora fresca la loro fa stagionare bene bene ma adesso ragazzi venite che proviamo sul muro invece bene ragazzi proviamo in modalità 6 6 che cementizio 7 mattone questo è l'esterno di casa mia proviamolo sul cemento che abbiamo qui e come potete vedere mi dice uno 0,6 per cento di umidità quindi tutto nella norma siamo tra l'altro nell'angolo dove prende molta umidità proviamo anche qui sul mattone e anche sul mattone mi da uno 0,6 per cento vedete dovrei anche poi mettere in modalità 7 modalità 7 anche questa la terrizia matone 0,3 per cento sì siamo nella norma comunque non diciamo che sono dei muri poi prendono anche abbastanza sole durante la giornata non sono abbastanza secchi non c'è non ci sono problemi di muffe o di umidità nella nella cosa proviamo a vedere invece modalità 3 1 2 3 ovvero cos'era muri gesso se non ricordo male proviamo a vedere anche qui no qua addirittura non mi da nulla non mi da nulla quindi vuol dire che questa comunque la parete è veramente secca facciamo altre prove vediamo un po che cosa possiamo fare anche qui riproviamo modalità mettiamo la modalità 6 proviamo la prima qui sul mattone qua mi da 0,5 per cento scusate ma 0,6 per cento proviamola anche sul cemento che c'è qui in mezzo qua addirittura 0,6 0,7 a seconda sì diciamo che le pareti di casa mia sono belle secche proviamo magari sul muro vediamo sul muro come viene ecco proviamo direttamente qui per terra secondo me mettendo in modalità 3 andiamo a vedere cosa succede eh sì qui nella terra ovviamente l'umidità è presente è presente anche perché se c'è della pioggia o comunque assorbito dell'acqua la pennetta l'ha rilevata come vedete secondo me abbastanza affidabile come come rilevazioni anche perché la legna l'ho conosciuta bene e i muri di casa mia anche bene ragazzi sono in quest'angolo di una parete di casa mia di una stanza dove praticamente in quest'angolo come potete vedere dall'altro lato c'era il pino che ho abbattuto perché i rami andavano a toccare contro la parete esterna che c'era qui e in questo punto esatto in questo angolo mi si era formata della risalita si erano formate delle bolle poi vabbè ho utilizzato trattamenti antimuffa e tutto fin sopra al soffitto e da qualche mese l'ho risanata e tutto andiamo a controllare anche qui se viene rilevato qualcosa e sì come potete vedere 1.5 per cento di umidità è rimasta perché poi ci vorrà l'estate per far seccare completamente vediamo 1.6 per cento vedete quindi questa è una parete che ho trattato proprio per quel motivo lì vedete anche qui 1.6 comunque siamo nella norma sempre verde spostiamoci un po più in qui 1.5 1.6 vedete poi man mano che mi avvicino qui alla finestra vediamo un po tutti i vari dati cosa mi dà sempre 1.5 bene bene è una parete che più ma in quell'angolo lì mi aveva fatto quel quello scherzetto qua poi adesso avendo abbattuto il pino che mi faceva anche ombra da quel lato lì adesso aspetto poi l'estate prossima e tramite questa pennetta andrò a verificare ragazzi è veramente utile veramente utile nel quotidiano anche per fare questo genere di lavori ok qui sono un muro della cucina dove ho anche la mia foto con elena e vediamo sul muro della cucina sempre in modalità 3 come vedete non non rileva proprio nulla quindi qui in cucina muro è sanissimo non da nessun problema era il muro quello della camera da letto questi siamo io elena bene ragazzi siamo oramai arrivati alle conclusioni finali abbiamo visto come funziona questa pennetta pennetta veramente interessante soprattutto per chi ordina la legna se l'avessi avuta prima nel corso degli anni avrei potuto misurarla al momento della consegna e magari qualche volta non mi sarei fatto fregare quando magari il taglialegna vi porta la legna nel periodo quello delle piogge o subito dopo il periodo delle piogge che magari un pochino più pesante proprio perché si è impregnata d'acqua e risulta abbastanza umida con questa sicuramente gli avrei fatto il test sotto gli occhi e gli avrei detto guarda ascolta questa te la porti indietro me la porti un pochino più secca in modo da risparmiare anche qualcosina bene parliamo un attimo di prezzi adesso vi lascio poi il link in descrizione con il prezzo dove comprarla su amazon ovviamente e un codice sconto che mi ha lasciato la tesmed di listino mi costa 14 99 più il mio sconto penso che andrete a pagare sotto i 15 euro di sicuro una cosa non mi raccomando il mio sconto durerà penso un paio di settimane non di più non fate come al solito che poi mi scrivete in privato dopo un mese un mese e mezzo e mi dite stefano il tuo codice sconto non funziona ragazzi per l'apparecchietto che è per il costo che ha fate in fretta compratevela perché veramente è una cosa che non costa niente e vi può tornare utile anche in casa soprattutto quando si formano quelle quelle perdite di acqua nel muro quelle macchie di umidità in modo una volta che ci andiamo a mettere mano con i vari prodotti antimuffa e tutto una volta risolto il problema possiamo tenerlo monitorato nel tempo senza dover star lì a capire è asciutto non è asciutto il muro siamo riusciti a portare a termine il problema bene ragazzi io mi sembra di avere detto tutto è un prodotto ritengo valido avete visto anche voi le varie prove che abbiamo effettuato se ci sono altre domande me le scrivete in descrizione io nel frattempo vi mando un grosso abbraccio e vi mando un saluto grandissimo ciao a tutti ragazzi